Ti ricordi il ragazzino, Ronnie? Suo zio alla farmacia. Mi ha dato le chiavi, facciamo un carico di osso e codone. Diventiamo rapinatori, che carriera. No, 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 lo facciamo solo questa volta. Servono i soldi per coltivare i nostri sogni, il capitale iniziale. E apriamo il tuo ristorante con i tatuaggi. Non è grave, l'ha fatto anche Jay-Z. Ha venduto crack per fare il rapper. Gli amici di Jay-Z non sono quasi tutti morti o in galera. Sì, ma noi siamo Jay-Z in questa situazione, non gli amici di Jay-Z. Non possiamo essere tutti Jay-Z. Non ci sono quattro Jay-Z, non avrebbe proprio senso. Faccio qualsiasi cosa per voi. Grazie. Grazie, bello. Ma questo no, sono fuori. Oh, che cavolo dici? Che? Questa è una follia. Tu ci servi, Scott, devi fare il palo. Ma chiunque può fare il palo, non ci voglia entrare in questa storia. No, 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 ci servi tu. Sei il nostro miglior amico, ci fidiamo di te. Ma i migliori amici non fanno fare migliori amici cose stupide e illegali. Tu mi fai sempre fare cose stupide per te. Tipo cosa? Non lo so, tipo quando pensavi di avere un tumore ai testicoli. Lo sapevo che la tiravi fuori. E poi mi hai fatto venire a casa e ti ho dovuto tastare le palle. Avrei fatto lo stesso per te. Se avessi qualche problema al culo, ti direi va bene, piegati. E dai, dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. Che hai fatto per me? Io ti ho dato il corpo da tatuare. E allora, ti piacciono i miei tatuaggi? Mi hai usato come un album da disegno. No, no, non mi piacciono. Non è vero. Almeno non quanto dico. Sì, è colpa mia. Me ne vado. Lo sai che c'è? Sei proprio una merda! Sei una merda! Shhh! Oh, non dirmi di stare zitto.